buongiorno oggi siamo un po più lunghi del solito coi tempi e non so se arriverà qualcuno perché vi ho cambiato tutti gli orari e intanto volevo dirvi che siamo arrivati a una settimana della nostra piccola rubrica ancora non sono smattata quindi bene no adesso è una persona arriva qualcuno arriva meno male mi stava venendo l'ansia allora oggi ho fatto alcune considerazioni la prima è che io ho chiamato questa rubrica una colazione ricciardina al giorno ma perché ne fai più di una mi è venuta da chiedermi però se io fossi un hobbit questa sarebbe magari la mia seconda colazione quindi visto che sono la nerdietista ce lo buttiamo dentro allora siete pronti a scoprirla colazione di oggi oggi rivisitazione di un classico di un grande classico nostro che piace a tanti e non vedo di nuovo i messaggi non so se quindi non li state scrivendo o però non capisco neanche come mai questa cosa scusate provo un attimo no così non funziona veronica è la veronica tu che mandami un whatsapp e dimmi se riesci se state scrivesse scrivimi un messaggio e dimmi se tu vedi dei messaggi che io non vedo ok siete pronti a scoprire la nostra colazione come vi dicevo è un grande classico però l'ho un pochino remaneggiato e oggi ho fatto dei tartufini di caprino roto scrivono in chat perfetto allora io non li vedo aiuto e se devo capire come va questa cosa comunque sono tartufini di caprino con intorno rotolati in un trito di noci brasiliane e sopra c'è del burro d'arachidi ma dall'assaggio sì vai vai tranquilla ok perché dico grande classico perché in realtà caprino e la noce io ve lo faccio fare sempre giusto la novità stava bene fatto che ho cambiato noci nella forma che mi faceva simpatia e poi ci ho messo una generosa dose di burro d'arachidi per ovviamente completerò la colazione con una fettina di pane che ho già mangiato buono non so come fare proviamo se lo scrivo io il commento se poi vedo anche i vostri ok il mio l'ho visto fantastico no mi vedo i commenti da sola e vediamo se per sbaglio adesso vedo anche i vostri ma non è che ci credo tanto è buono molto buono la parte croccante chiaramente ci sta bene e il burro d'arachidi è sempre quella crema che ha il suo perché per chi si fosse appena connesso non vedo i messaggi quindi se mi state dicendo cose io non so buoni allora domanda perché io vi faccio comprare il caprino da latte di capra perché badate bene che caprino non indica il formaggio di capra ma indica un tipo di formaggio cremoso fresco ma si può fare sia da latte vaccino che da latte di capra come mai rispondete ma è vero non potete rispondere cioè cioè voi potete rispondere ma io non lo saprò bene avete risposto così vi racconto la mia risposta praticamente il latte di capra come quello di bufala diversamente da quello vaccino è un latte un pochino più educato sull'intestino cosa vuol dire che a prescindere da intolleranze certificate eccetera che poi lì è un discorso a parte chi magari fatica un po a digerire bene questi alimenti si trova più facilmente bene con questi qui quindi vacci scusate capri ce la faccio di capra o di bufala rispetto al latte vaccino anche perché come sapete di latte vaccino ne facciamo un uso smodato in particolare le caseine che sono delle proteine piuttosto grosse e impegnative da digerire nel latte non vaccino sono meno meno pesanti per capirci e quindi ecco il motivo per cui vi faccio questa proposta in più il caprino da latte di capra è più acido da un gusto più forte e quindi ci aiuta anche a darci questo gusto al mattino ci sazia di più insomma almeno questo quello che ho percepito io secondo tartufino vi piacciono chi lo sa spero di sì devo risolvere questa cosa prometto che ci lavoro ma è successo così da nulla cioè non vabbè in tutto questo spero che questa colazione di oggi vi sia piaciuta quindi ricapitolando caprino arrotolato nelle noci brasiliane con burro d'arachidi fetta di pane e il mio mancabile amico di tutti i giorni caffè ora vi lascio penso al lavoro perché ormai la colazione l'avrete finita tutti e noi ci vediamo domani ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti